Proprio così. Pensa, nel Medioevo la gente era fermamente convinta della loro esistenza. Avevano persino istituito degli autentici processi alle streghe. Dei processi? Ma allora le streghe esistevano davvero? Beh, di certo quei processi erano reali, ma nessuno è in grado di utilizzare la magia. Le streghe non sono che il frutto della credenza popolare. Wow, guarda quante luci! Siamo a Londra! Ma che fai, Nick? Dai, svegliati! Maia, per favore, smettila. Dai, lasciami dormire ancora un po'. No, non è il momento di dormire. Non vincerai mai una causa in Inghilterra se batti la piacca. Siamo qui solo per partecipare a un convegno della Federazione Internazionale Avvocati. Non ci sarà nessun processo. No, davvero, che delusione. Lo sai che riesci a dare il massimo quando sei sotto pressione e poi chissà quali imprevisti ci attendono. Maia, adesso basta. Stai cercando di portarci sfortuna. No, davvero, che delusione. Anche io fatico a crederci, ma la trovo una storia affascinante. Ehi, piccolino, cerchi riparo dalla pioggia? No, non aprire! Oh, no. Ah! Chummi! Ferma! Professore, che cos'era? Quella, Luke, era una strega.